Amici, in questo nuovo video voglio mostrarvi un gioco che l'ho riscoperto così per caso guardando le vecchie pubblicità dei Jig Tiger. Quei giochi a cristalli lipidi li conoscete tutti, ma questo gioco qua che vi mostro, quando uscì in sala giochi, ebbe un successo talmente straordinario che io da scemo me lo sono perso, ma ho rimediato immediatamente, guidate un elicottero e uccidete tutti. L'ha fatto Sega, chi è? La casa giapponese Sega, quando all'epoca, verso la fine degli anni 80, era una casa in piena espansione, rilasciò in sala giochi uno dei giochi d'azione più straordinari che siano mai visti negli ultimi vent'anni, Thunder Blade! Beh, la storia non c'è in questo gioco, tra l'altro possiamo forse escludere questo aspetto, ma vedendo da vicino la grafica per prima cosa, che vi posso dire che graficamente il gioco è tutto in 2D, è vero, però attenzione, guardate per bene il titolo. Abbiamo le ambientazioni che si passa da quelle viste dall'alto, con gli edifici che sono resi in modo da rendere molto bene la profondità di campo, in base all'altezza del nostro velivolo. E ci sono alcune parti, messe in orizzontale, che lì sembra proprio quasi di vedere la grafica di Outrun, con un ottimo effetto di profondità del piano, e anche addirittura degli oggetti, mano a mano che ci avviciniamo. Però bisogna dire che anche i velivoli e anche i veicoli di terra sono tutti ben realizzati, sono ispirati a veicoli che esistono davvero, però non sono su licenza, ma del resto chi se ne frega. Poi graficamente il gioco non rallenta mai, neanche nelle situazioni più concitate. Per l'audio possiamo dire che abbiamo effetti sonori in grande quantità, e stranamente qua sono a livello altissimo, quasi di una Playstation, perché sfruttano molto bene il chip audio presente all'interno del sistema arcade stesso, è vero. Però abbiamo anche delle musiche di sottofondo, azzeccate. Per accompagnare quest'atmosfera si passa da brani molto ritmati, ad alcuni ancora più veloci. Ed eccoci alla giocabilità. Thunder Blade cos'è? È una sorta di gioco d'azione in terza persona. Il nostro scopo è quello di muovere un elicottero e sparare a tutto ciò che ci capita davanti. È vero, potreste forse pensare che sia un gioco molto semplice, ma già dal primo livello capirete quanto è complicato. Il cabinato era strutturato in un modo. Avevamo un joystick che potevamo muovere l'elicottero sia ai lati che in avanti e indietro, in base a come veniva posizionato il nostro velivolo, visto dall'alto o visto da dietro. Poi c'era anche addirittura un altro joystick secondario che ci serviva per salire di quota o scendere di quota, per rendere l'azione molto più reale. E vi garantisco una cosa, che questo gioco è molto difficile da portare a termine. Il vostro scopo è semplicemente quello di usare i normali proiettili basilari e anche addirittura i missili, che non sono infiniti, state attenti. E l'azione è a non finire. Dovete sconfiggere tanti di quei boss e tra l'altro, state attenti a quando volate. Se scendete fino a terra, l'elicottero si ferma e siete facili da beccare. Però gli avversari sono tanti e veramente bastardi, quindi il mio consiglio è di recuperarlo questo gioco. Se volete provare in arcade c'è per l'emulazione MAME, ma l'hanno riconvertito per tanti sistemi. C'è per Master System, per i sistemi Amiga, per l'Amstrad CPC, per Atari ST, Comodo 64, DOS, per MSX, per TurboGrafx16, per Sharp X68000 e anche per ZX Spectrum. Ma esiste anche addirittura per Mega Drive che è proprio un seguito. Super Thunder Blade, ma ve ne parlerò un'altra volta. Ci vediamo domani, amici! Ci vediamo informazioni! командivo Grazie a tutti. Grazie a tutti.